Altra operazione importante dal punto di vista amministrativo è stata il rifacimento dei manti stradali, siamo arrivati a chilometri e a numeri di investimento veramente importanti, oggi siamo su una delle ultime strade interessate dagli interventi, ma una delle ultime con un lavoro che ha riguardato sia le strade comunali sia le strade provinciali, oggi teniamo sostanzialmente un reticolo stradale particolarmente importante per il nostro territorio, tutto risistemato, basta pensare ai collegamenti da Banzano alla zona centrale, basta pensare la 88, la SP5, la 145 e tante altre strade all'interno dei nuclei abitati, chiaramente il nostro territorio è ampissimo, ma quello che in questo quinquennio è stato realizzato dal punto di vista della manutenzione dei manti stradali penso che sia uno dei veramente dei fiori all'occhiello raggiunto da questa amministrazione.